L'abbandono di Q-Terminal non è la fine, ma solo l'inizio di una strada da percorrere per trovare il giusto terminalista che voglia investire e puntare sul porto industriale di Cagliari. Come Will Transporti abbiamo sempre creduto nel rilancio dello scalo cagliaritano come Terminal Container. Il segretario generale della Will Transporti Sardegna, William Zonca, si è espresso così in riferimento al recente abbandono della trattativa di Q-Terminal per la concessione del compendio di transshipment. L'abbandono di Q-Terminal è una delle tante possibilità che non si sono concretizzate, ma riteniamo che il lavoro debba ripartire immediatamente, ha aggiunto William Zonca. Il nuovo governo e le istituzioni nazionali devono attivare subito un canale di scouting ad alti livelli per individuare un terminalista internazionale o un armatore che voglia investire sul porto industriale di Cagliari. Oggi, a differenza di prima, lo scalo a tutte le carte in regola per poter diventare una grossa realtà del transshipment nel centro del Mediterraneo. Riteniamo che con il completamento della zona franca interclusa e con il grande retroporto, le caratteristiche uniche del porto industriale di Cagliari, aggiunge ancora William Zonca, permetterebbero di fare volumi di traffico veramente elevati, grazie anche alla stabilità che ha sempre garantito come terminal container. Non dimentichiamo poi il grande bacino di professionalità che oggi sono confluite in Calport e verranno messe in formazione specializzata per i terminal con una serie di incentivi per il loro riassorbimento. Per tutti questi motivi, ha concluso William Zonca, pensiamo che l'abbandono di Q-Terminal non sia la fine, ma solo l'inizio di una nuova strada. Per questo motivo la Will Transporti, insieme a CGLC nazionali, ha chiesto un incontro urgente ai ministeri competenti, il MISE e il MIT.